Uccidilo, è morto, ok Mi servono pure tante 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 Arrivo, sto qua, sto qua, fevo donna dietro Dobbior Dobbior Cazzo Dai, Dobbior è morto Si è morto, letteralmente Bravo, bravo, andiamo, andiamo Andiamo, andiamo Andiamo, andiamo, andiamo Sì Sì Non ho preso la merce Non ho preso la merce Non ho preso la merce Non ho preso, grande Sì che l'ho preso Sono, nooo Cosa Io la mia ulti Se lo vuoi È la Merce, merce, merce È il momento Vieni qua Vieni qua Vieni qua Vieni qua Nervis Dietro di me Vieni qua Caricami l'ulti, caricami l'ulti, caricami l'ulti Caricami l'ulti Non sto capendo che è scomparsa viva Eh vabbè dai, non fa niente Sta ancora dietro di noi Succede? No, non succede Durante la vita viva Rodog per dio Perché Cioè il nostro, io e il nostro Rodog Quanto è un Robert Winston Cioè hanno un Winston Aiutami Aiutami, aiutami, c'è un Winston qua Eh, sto arrivando Non possiamo pushare per piacere Stanno indietro, stanno indietro Dove sta? Abbiamo Winston indietro? Abbiamo Winston indietro? Su Lorenzo? Dove è là? Ok Insegui mezzo, insegui mezzo In un principio Treza Questo è anche Rodogq Unrate In un acquiremo Vieni qua Vieni Eh beh io e non l'ho giochIO Mi ho messo a ballare Noo Dai Ok Sto dire comunque nonДа Shoe no so direi preso preso no cosa come non ho preso c'entra mezzino preso mia mano e un medaglia d'arteto il film questo come si è messo almeno fate più di Lorenzo io non ho 10 io non ho 15 16 oh quanto pre-pire oh Winston Winston non stanno andando su Lorenzo Winston no Dio Lorenzo eh non poteva molto evitarlo eh onestamente a differenza di tu con Vodod da quando hanno un Reinhardt e vabbè dai un bel po' no da adesso ah da tipo poco fa si lo so lo so non so via del piatto per Genzo per Genzo però in periodo 15 che cosa sta succedendo lol starbato questa volta lo so direi no minucci match match lol io sto a 20k, non so se come the pain is coming nooo guarda dietro guarda dietro guarda dietro un'ana aveva addormentato Rodogh che stava provando ad arrivare e poi io gli ho fatto la shutter Lorenzo ci vuoi dire qualcosa di questo partito? di questa partita mi sta giocando malissimo lui e adesso mi dirà qualcosa riguardo riguardo questo partito ha rotto il cazzo te l'ho detto io che lo dicevo nab lo ne si nab eh Lorenzo quanto porco schifo a 30 di vita e il cazzo di mezzo ne insegue e lo so io Lorenzo tu devi ammettere che ci ho provato però ad aiutarti questo detto di mia madre devi ammettere che ci ho provato no 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 Lorenzo devi ammettere che ci ho provato però ad salvarti no tu si ma intendo che io pure ci ho provato dai che sono venuto e ho detto vabbè dai che monso me ne sono andato io l'ho finato invece non ha avuto io l'ho buffato ho buffato le per la fissatura io l'ho scritto giochiamo insieme quello roto non mi rispondo perché c'è paura che ti dico no però ah si è ancora meglio quale roto che il nostro? che cosa stavo dicendo? eh il problema stai fatto? digli ok ok dopo questa partita digli ok dopo questa partita no aspetta dai no è tutto ok è ok è ok cosa stavo dicendo? ah quella dana cura tantissimo soldier chi si può cuore da solo? e non cura fortuna mente me che sono testato da 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 a Winston e per tanto il bisogno di pure si no ho sbagliato abitudine e e carezzina jump free non farti uccidere da robole eh no scherzo non lo para ah cazzo vabbè noi abbiamo ma che infuse eh dal colore della pelle eh 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 sono salito qua sopra con la cosometro oh lol guarda sopra si l'ho visto ma forse cosa? tutto rodo che ha fatto guarda adesso è uscito tracer e si è abbastanza morto non so solo che allora hanno solo mercy come healer eh bello e c'è diva su tutto lol eh fattene via fattene fattene mamma mia lo vengono che sei nab no no ho salvato il nostro soldier in una maniera assurda salvato il soldato soldato lol soldi va morta dai fossa andiamo il soldato soldier vediamo il soldato soldier sei facendo jump attento ti sta andando il soldato soldier? chi sei incipendo? non lo so c'è la loro mercy no oh no devo fare lo scudo arrivo dai ho una fara dietro no ah quella fara avversaria era io non l'ho guardata e lei guarda come si lo so stava fra di noi a caso credevo fosse una brava persona e invece io sto vogliendo ah no io l'ho bloccata guarda eh io ho fatto la ultima pallone però sono io lol credo abbiamo una mercy per caso no non abbiamo una mercy nella vita vai lorenzo ce la puoi fare si si arrivo 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 si giusto vai lorenzo ce la puoi fare contro diva chiaramente no lorzitsu com'è ancora vivo che l'ho salvato sono mortissimo e sto contestando vai contestando e non trovo oh back time ok no niente shhh dietro 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 nervese a caso oh ciao ana eh group up eh non group up io aspetto i miei con gli altri i miei con gli altri i miei con gli altri eh Rodolf mi serve una mano Rodolf eh ah non nessuno mi sente che palle sono ad uno di vita uno ok ero ad uno di vita vediamo come si vede l'uno di vita oh è la oddio Rodolf il nostro Rodolf non è il massimo eh guarda la mercy game rest non sforzo vieni qua eh vai attenzione stanno macchiando tutti qualcuno qua il Rodolf almeno questa oh oh dai peppo dai è quasi morto cosa oddio guarda sopra che è successo peppo lol un triste Lorenzo mi dispiace non mi piante veramente 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 aiuto 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 giampi giampi oddio sei là arrivo ti prova ti salverò io vorrei che salvami aiuto aiuto nooo io ci ho provato dai vedi Lorenzo come si può ci salvano le persone eh si è funzionato arrivo crepa 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 nooo te l'avevi tutti te nooo io non ci sono nnnnnn ha fiu I'm better than soldier eh tracer è quasi morta che fiu l'ho fitto I'm better than Rodolf I'm better than Genji 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 sta qua eh ciao Genji perchè sta ponendo il cassiere Genji non lo so help non volevo la volta vieni qua diva vieni qua vieni qua ah è scadita tutta la fama le lecce un B eh oh ho preso Rodolfo ho preso Rodolfo soldier 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 oh come stai dove è il capo no 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 oh Genji e aiutino a chiedere tre come dam bella cosa sta succedendo diva c'è diva che sta tricolando eh 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 merci oh 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 oddio oddio eh eh quella quella me la salvo comunque eh e poi guarda come scaffo oh oh boom è proprio un costume io oh 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 no 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 Buono Lorenzo Protoss no 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 Via di va Io andando con te nessuno mi capa No Grazie No lei manca la tua Stai seguito Ficchiala Ficchiala io ho paura È morta è morta Grazie No Lorenzo non hai bisogno Lorenzo non ti preoccupare I perianzio giocano anche 30 o' vita Giusto Loll Cos'era quella bomb Sento rodo Sento rodo Eccolo qua No dai stavo facendo l'ulti Stavo facendo Vi avrei salvati tutti non ci credo Il nostro sogno vuole fare qualcosa Posso uccidere merci Allora la mia ulti è pronta Quindi se Anna riesce a sopravvivere Cosa che dubito Infatti Vabbè andiamo e facciamo le ulti Le ulti Ciao Noa non va in atto seriamente Giusto per bloccarmi la ulti Noa mi ha intrappolato Cosa ho visto Oh ciao Ti ho salvato quel caso? Non lo so Prima faccio boom Eh mi ha fisso data Di ero sul pedo Di ero sul pedo Eh ho notato Ci deve andare rodo Che adesso è bella Mariana brava Bravissimo Che grande Questa Anna è una grande Io vado a fare complimenti a questa Anna Veramente Sì ero bravo dai Lorenzo vieni Anche se non so se stesse curando Lorenzo No frega nulla Lorenzo Non qui ho curato Lorenzo Non curava me per curare voi Ho provato male Ho provato male Forco di qua forco di là Forco di là Forco di là Dai che mi ha Io ho fatto il te contro Genji E non l'avevo messo Contro Genji Guarda la spada d'oro Mahona Che forse Che cosa è questa roba Guarda 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 Io non l'ho vista mai Nella vita Vabbè Guarda Guarda Era fottutamente curato da Anna Io no Io Lorenzo Per colpoto Non ho preso il quinto voto Sì Mi spiace Dovevi dirmi i priori Guardarti Lol